Dopo il pessimo capitolo per Kinect, Namco Bandai torna a scomodare Goku e Sochi in un nuovo tie-in dedicato a Dragon Ball Z. Battle of Z è stato affidato a un nuovo team di sviluppo, Hardink, che ha optato per focalizzarsi su nuovi concetti di gioco, combattimenti tra team e la possibilità di organizzare scontri multiplayer in cui i giocatori sono suddivisi in squadre. Si tratta perlomeno di una prospettiva inedita per la saga, ma siamo sicuri che basti a risollevare le sorti delle abusatissime avventure dei Saiyan? Battle of Z si snoda a lungo 60 missioni single player, che vanno dalla calata dei Saiyan sulla terra e proseguono ben oltre Majin Buu. Nel gioco infatti saranno presenti anche gli eventi narrati nell'ultimo lungometraggio, uscita nei cinema giapponesi lo scorso marzo. Quello che lascia comunque Basiti è la terribile povertà dell'impianto narrativo, che procede attraverso sbrigative cutscene tutt'altro che fedeli agli eventi dell'anime. Ogni stage viene introdotto da linee di dialogo asfittiche, che solo a sommeline si rifanno ai fatti raccontati nell'opera originale. Scesi in campo si scopre un sistema di combattimento che si avvicina globalmente a quello di qualche vecchio episodio, anche se propende per un'estrema semplificazione. Ci sono solo due tasti d'attacco, uno per il corpo a corpo e uno per i colpi energetici a distanza, mentre gli altri permettono di eseguire uno sprint e avvicinarsi così all'avversario. Uno dei dorsali funziona da modificatore per trasformare i colpi classici in attacchi aura, versioni potenziate che consumano energia. Ogni lottatore ha anche a disposizione due mosse caratteristiche. L'estrema semplicità del sistema di controllo permette a tutti di entrare in partita senza troppe difficoltà, ma si riflette in negativo sulla varietà dell'esperienza di gioco. Il numero di personaggi inseriti in Battle of Z è letteralmente stratosferico, ma ciascuno finisce per avere solo tre o quattro mosse distintive, che negli scontri bisogna ripetere allo sfinimento. Il problema principale di questo nuovo Dragon Ball Z è quindi la tediosa e monocorde ripetitività, legata anche ad un mission design imbarazzante. Gli stage che saremo chiamati ad affrontare ci presenteranno in linea di massima scontri tutti uguali, con pochissime variazioni e ben presto sopraggiungerà una noia viscerale. Non c'è peraltro un vero e proprio livello di difficoltà. In certi casi può capitare di finire a terra, magari perché la pessima telecamera ci ha reso la vita troppo difficile. In quel caso basta attendere 5 secondi per tornare in piedi, rimettendosi a spigiacchiare disordinatamente i tasti del pad. Idealmente dovrebbe essere la presenza di altri tre combattenti a ravvivare la situazione. Il team ha scelto infatti di impostare l'intero story mode come un susseguirsi di scontri multipli. In verità l'interazione con i propri compagni è ridotta all'osso e la presenza di così tanti lottatori tende spesso e volentieri a creare un bel po' di confusione. Le cose migliorano leggermente nella modalità co-op, peccato per un matchmaking molto lento e qualche problema di lag. Battle of Z insomma è un titolo che sacrifica le buone idee concettuali sull'altare di un design fallimentare e ripetitivo. Non può nulla il multiplayer, disponibile solo in modalità online, che incontra gli stessi problemi di ottimizzazione delle missioni co-op e inciampa proprio sulla poca varietà del combat system. Anche a livello tecnico non si sottolineano troppe prodezze. Il cel shading messo in piedi dai ragazzi di Harding, tutto sommato, funziona e risulta discretamente fedeli ai colori e alle animazioni della serie animata. Sembra però che il titolo sia stato sviluppato con in mente PlayStation Vita. Mentre sulla portatile Sony il gioco appare davvero eccezionale, sui televisori ad ampia diagonale si notano texture poco definite e soprattutto troppo aliasing. Se l'obiettivo di Battle of Z era quello di riportare in auge i picchiaduro dedicati a Goku e compagnia bella, purtroppo non può dirsi centrato. Il roster sarà pure allargatissimo, la storyline sembra coprire una quantità spropositata di saghe ed eventi, ma gli entusiasmi si spengono subito. Il combat system banalizzato sfocia in scontri tutti uguali e la struttura delle missioni è noiosa, ripetitiva e poco stimolante. Forse il publisher nipponico farebbe bene a mettere a riposo per un po' i propri guerrieri e tornare sulla saga con nuove energie creative.